Sono tutte partite vere, quindi la posta in palio è alta, sappiamo che la qualità degli avversari in questo pool promozione è sicuramente di un certo livello, quindi stare sempre a tiro non è semplice, le difficoltà e i problemi ci sono, ci saranno fino alla fine, il bello adesso è riuscire a gestirli, nasconderli e tirar fuori le cose buone. Non guardiamo alla settimana perché secondo me sarebbe un errore pensare a quello che ci aspetta, rischieremo di andare over, un po' troppo, quindi dobbiamo tenere il nostro passo adesso, pensare sulla partita di mercoledì che sarà comunque una partita tosta, per fortuna in casa nostra e quindi tutte le energie saranno concentrate su queste e appena cadrà l'ultima palla mercoledì sera comunque vada, testa a busto. Siamo felice perché abbiamo giocato molto bene, è stata una partita difficile ma abbiamo vinto.